Musica Pagliamo corda e matra a pieno E questo è veramente grosso Musica 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 tolgo l'altra? no la tengo dritta mi hai piantato sotto scusate ma non riesco a tenere no è tranquillo non riesco a tenere sinceramente incasso tolgo no bello bello se non ho girato di lato se non ho girato di lato si si se non ho girato di lato così vieni qua no no la tengo dritta mi hai piantato sotto scusate ma non riesco a tenere non riesco a tenere questa è veramente incasso wow guaa tussone rimato 60 kg e la tussana rimato 60 e 65 kg e la tussana rimato 60 e 65 kg bellissimo ragazzi questo è un gigante mangiato regalo portati prima la corda nella mano ok no rigirarlo Gio lo porti di nuovo ok per russone occhio Lico che mi sta mangiando vai tranquillo lo mettiamo in acqua guarda che scende conto ancora io tu si si ho visto ma era un passaggio vieni qua filmalo che va via non c'è più vicino ciao bello non ha chip quindi penso sia prima volta che viene pescato e anche il socio c'è di nuovo guarda faccia la contenta ok e togli l'altra cerco intanto inizia a diluviare incazzato incazzato la frizione è chiusa come canta al penno Giulia un po' va tutto le gocce che sentite è acqua con l'ombrellone a casa ovviamente biancone tira un po' il cuore e in acqua siamo a Gio 7 e 8 perso eh beh non si vince mica sempre cazzo è mica sempre domenica è incazzato ma come fuma no mi ha preso l'altra te la tolgo come sempre finiamo sotto l'acqua e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao